Federico Clò, Partito Democratico. Cercherò di stare all'interno dei 5 minuti o 5 minuti e 2. Allora dunque, io parto da una serie di riflessioni. Sicuramente noi come Partito Democratico abbiamo selezionato l'astensione come scelta di votazione. Ciò non toglie comunque la necessità, a mio parere, di fare importanti riflessioni su quella che è la struttura e il contenuto di queste linee programmatiche. Parto intanto dal primo presupposto. Non condivido alcuni elementi e notevoli sono le non condivisioni di alcune nozioni e di alcuni contenuti che sono presenti. A di là di quella che è l'introduzione che, a discapito di tutti, che va da teorie neoliberiste a interventi del Papa, contiene proprio nel suo contenuto delle lineatezze concettuali. Non capisco come mai ci si ponga in contrasto con organizzazioni verticistiche come l'Unione o la provincia, quando comunque l'Unione e la provincia sono elementi importanti, esistenti, e di cui l'Unione presidente è il sindaco di Vignola e di cui la provincia è stato candidato alla presidenza il sindaco di Vignola. A di là di questi che sono alcune riflessioni a passante, posso dire che il discorso principale va, secondo me, impostato su quelle che sono le priorità dell'amministrazione. All'interno di un disegno che è molto, molto vago e molto ampio, ritengo che si debba porre l'attenzione su punti fondamentali, ma che sono punti fondamentali dettati da esigenze esterne, che è sostanzialmente il vincolo di avere un bilancio limitato, di un bilancio che è stato ripetuto e ristretto, di un bilancio che è stato ripetuto e soggetto a restrizioni anche di carattere nazionale e internazionale, e che pertanto deve essere un bilancio mirato ad alcune realtà del territorio. E parto da una realtà che sicuramente coagula in sé alcuni elementi, che è quella sportiva. Penso assolutamente che uno degli interventi più importanti dal punto di vista sociale, delle politiche giovanili, dello sport e anche per certi paesi della cultura, sia la realizzazione della nuova palestra. Esigenza che viene richiesta con le lacrime da quelli che sono gli insegnanti di educazione fisica delle scuole superiori, esigenza che viene richiesta con le lacrime da quelle che sono le società del territorio, e in più, oltre a quelle che sono la realizzazione di una nuova palestra, quella che è la manutenzione dell'esistente. Palestra come abbiamo citato prima quella del Calvino, ma anche e soprattutto la piscina. E io mi sono effettivamente stupito, e torno sulle parole di Gasparini, della mancanza della piscina all'interno di un piano di investimento serio. Perché la piscina rappresenta comunque per Vignolo un po' l'attrattivo culturale, turistico e sportivo. E crea socialità, quella stessa socialità che è negli scacchi, ma che deve essere lo scopo delle politiche giovanili. Perché i giovani non sono nati solo per divertirsi in spazi predisposti in cui ci si può discutere. I giovani, come i meno giovani, hanno necessità anche di svilupparsi attraverso quello che è l'indotto, e lo sport è uno di questi. Torno anche su alcuni, su una riflessione di natura più strettamente economica. Manca, a mio parere, una vision del futuro di Vignola. Faccio un esempio. Per esempio, è chiaro che per avere un'importanza e un peso strategico all'interno di enti, come la provincia e come la regione, è necessario sedersi a tavoli importanti. E sedersi a tavoli importanti vuol dire partecipare, avere coraggio di partecipare a progetti importanti. Quindi spero che l'amministrazione con più dettaglio possa prendere in esame progetti di questo tipo, al di là di quello che è il territorio singolo del comune, ma guardando uno a una strategia che sia di unione, che sia di unione forte, e cito l'esempio dell'apertura della Philip Morris in Balsamoggia, che non fa ceduto pannolini ma crea posti di lavoro. E parlo inoltre di quello che deve essere il lancio di questa comunità nostra all'interno dell'Europa, perché comunque come cittadini vignolesi siamo comunque cittadini d'Europa e quindi allo stesso livello abbiamo necessità di alcune esigenze. Le esigenze principali sono quelle tecnologiche. Noi abbiamo bisogno di infrastrutture tecnologiche sul nostro territorio, che al di là del wifi, che ormai sembra quasi superato, sono fibra ottica, sono semplificazioni burocratiche che non è l'inserimento della pratica scritta online, ma una semplificazione reale dal punto di vista della procedura. Mi faccio un'ultima nota, altre due note, mi scuso, dal punto di vista della viabilità e collegate con la partecipazione. Dal punto di vista della partecipazione, io sono d'accordo, ho partecipato d'altronde anche al progetto sulla riqualifica di Villa Trenti, però devo dire che comunque noi come Consiglio rappresentiamo un'entità eletta democraticamente dal popolo e che quindi deve essere comunque valorizzata e non sottoposta a quella che è l'esigenza della, non dico dei più, e non dico di quelle che sono le esigenze particolari di una ristretta zona. Però, però, devo sottolineare il fatto che i percorsi partecipati, di qualunque tipo siano, devono nascere, e me lo auspico, sulla base di dati confermati, di dati già presi, e parto, parto in primo acchitto, su quella che è la decisione del senso unico in via libertà. La decisione del senso unico in via libertà, che è una via non completata, tra l'altro, perché il progetto non è completato, è una via che è nata da un percorso partecipato che è stato atteso, contrariamente a quanto dicono linee programmatiche, perché sostanzialmente decideva la parità tra o il senso unico e il doppio senso. Il doppio senso è stato fatto perché nel doppio senso ci sta anche il senso unico eventualmente. Io non sono contrario a priori al senso unico, ma dico che le scelte si fanno sulla base di dati, come ho detto prima, sulla base di uno studio del territorio, e non a priori o forse per vendere alcune operazioni come slogan, o come si diceva qua, contrariamente a non voler prendere facili favori demagogici, facili favori demagogici, spero che d'ora in poi le scelte inerenti a quelli che sono progetti in corso di partecipazione, quelli che saranno i progetti futuri di partecipazione, oltre a basarsi sui dati, si basino sul vero concetto della partecipazione e non delibere di giunta che vengono presentate all'inizio del mandato quasi con un'urgenza che non è giustificata. Ringrazio per l'attenzione e faccio comunque un auspicio all'amministrazione. È cambiato sicuramente l'orientamento politico della nostra amministrazione ed è giusto guardare al futuro, ma è giusto sottolineare quanto effettivamente quella che è stata comunque questi ultimi 70 anni, e non sono tutt'altro che un revival, non è un revival, però io parlo degli ultimi 5, indipendentemente da quelle che sono state le scelte dell'amministrazione e quelle che sono state anche difficoltà di ipotetica comunicazione, non si può negare che se l'amministrazione attuale ha margini di discrezionalità nelle scelte, l'odeva una gestione attenta, stessa gestione che è stata sostenuta anche dagli stessi dipendenti comunali. Grazie. Sospendo proprio un minuto la seduta, invito i capigruppo ad avvicinarsi ad Enzo Cavani per decidere se terminare come comunque propongo la seduta stasera.